Appuntamento in aula questa sera per il Consiglio Comunale di Grisolia, assise presieduta dal Presidente Giovanni Consiglio, che a fine agosto dovrà discutere di un corposo ordine del giorno, ben 11 punti inseriti nell'agenda dei lavori, il più rilevante quello dedicato all'approvazione del bilancio di previsione 2014, consiglieri di maggioranza e opposizione che avranno dunque un bel da fare, inizio dei lavori ore 19.30, assemblea che si ritroverà eventualmente in seconda convocazione il 1 settembre, sempre presso i locali dell'ex municipio. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, si passerà al secondo punto che prevede l'integrazione della Convenzione già esistente per il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria Comunale, un servizio gestito con altri comuni dell'Alto Tirreno Cosentino, tra questi Aieta, Buonvicino, Maierà e Santa Domenica Talao, a questi si aggiungerà l'amministrazione comunale di Verbicaro. Tre punti saranno poi dedicati alla IUC e la nuova imposta comunale introdotta nella legge di stabilità 2014. L'imposta è composta da più parti, l'IMU sul possesso di immobili, la tariffa Tari sulla produzione di rifiuti e quella Tasi che copre i servizi comunali indivisibili, come l'illuminazione. Per questo motivo saranno tre i punti predisposti per affrontarne la discussione e si parlerà poi del piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016, un documento, ha spiegato il sindaco Antonio Longo, che raccoglie tutti i progetti ai quali ha lavorato la nostra amministrazione comunale, dai progetti integrati di sviluppo locale al patto territoriale, fino agli interventi dedicati alla riqualificazione del territorio. Infine l'esecutivo presenterà all'intero Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2014 e ne chiederà la fiducia, relazione previsionale che ha ottenuto lo che dell'aggiunta proprio nei giorni scorsi. Qualche numero che emerge dalla delibera di giunta, oltre al pareggio finanziario rispettato per circa 6 milioni di euro, nel documento si evidenzia la copertura dei servizi comunali in relazione all'anno 2014. Per la Tari la copertura è del 100%, infine per il servizio idrico integrato la copertura è nella misura dell'84% circa.